Finalmente ci siamo, abbiamo le box art, ovvero le copertine di due nuovi titoli Pokémon in arrivo per Nintendo Switch, che sono quindi state svelate, e ho qualcosa da dirvi a riguardo. Partiamo da quelli di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente. La prima ed ovvia cosa che possiamo notare in queste due copertine è data dal fatto che, a quanto pare, Dialga e Palkia non hanno ricevuto nessuna nuova forma, una forma ipotizzata da tanti. L'occultamento delle stesse per quasi tre mesi sembrava la solita mossa da parte dei Game Freak volta a nascondere il reale aspetto dei leggendari. Una cosa successa ad esempio con Zassian e Zamazenta in quanto Pokémon inediti, e con Ultrasole ed Ultraluna, di cui occultarono le nuove forme di Solgaleo e di Lunala. A quanto pare in questo caso l'occultamento non era legato a qualcosa di nuovo, perché apparentemente Dialga e Palkia si presentano nello stesso identico modo di giochi originali di Diamante e Perla, e quindi a quando li abbiamo conosciuti la prima volta. Una scelta quindi che al momento stento a comprendere, almeno che non ci sia qualcosa sotto, ed io in realtà una piccola teoria, che magari potrà sembrare campata per aria, e che forse si ostina a voler vedere qualcosa di più in questi giochi, io in realtà ce l'avrei. Nei luoghi occidentali non è possibile vedere nulla di particolare, e questo sin dall'inizio della loro rivelazione, ma in quelli giapponesi sono presenti la Damosfera e la Splendisfera. La luce sprigionata dal diamante nel petto di Dialga e quella dalla perla nella spalla di Palkia, sprigionano luce in un modo molto simile a quella che sprigionano le pietre chiave, i cristalli Z e l'ultimo polsino Dynamax. Per quanto riguarda le mie evoluzioni, sebbene tale animazione sia stata rimossa dopo la sesta generazione, a riguardarla sia in X che Y che in Horus, non può che farmi pensare ai fasci di luce sprigionati dai due gioielli dei leggendari, dove tali fasci di luce sono sprigionati nello stesso modo proprio da quella che potrebbe fungere da pietre chiave per farli megaevolvere, quindi rispettivamente dalla Splendisfera e dalla Damosfera. D'altro canto, abbiamo già un leggendario capace di megaevolvere grazie al suo stesso corpo e senza l'ausilio di una pietra chiave, quindi non la vedrei nemmeno come una scelta troppo campata per aria, nel caso in cui si rivelasse veritiera. Dato che comunque vedo poco probabile il ritorno delle mosse Z è molto estraneo rispetto ad una regione come quella di Alola, e assolutamente poco applicabile il concetto di Dynamax in questa sinno, sarei quindi più propenso a questa soluzione. Sappiamo già con certezza che le megaevoluzioni fanno parte del merchandising di questi due remake, e a dire la verità, una sorpresa del genere, se rimanesse realmente tale, penso proprio che non mi dispiacerebbe. Ma non fraintendetemi, il mio non è un disperato tentativo di dare un senso a qualcosa che potrebbe benissimo non esistere, però diciamo che fino a quando non avremo i giochi sotto mano, non potremo nemmeno avere una conferma effettiva. Se invece i giochi non dovessero presentare forme alternative per i leggendari, andando quindi a confermare la loro natura di remake, vedelissimi, beh, sarebbe un altro discorso, che ho approfondito meglio in un altro video, e che in realtà avevo già registrato prima della rivelazione di questa box art, e quindi perdonatemi se in quel video andrò, per ovvie ragioni, a ripetermi. Per quanto riguarda lo stile adottato, non mi convince più di tanto. Devo dire di non essere un grande fan dello stile adottato uniformemente a tutti gli artwork di questi remake. Mi ricordano più che altro artwork provenienti da giochi spin-off, come Super Smash Bros. o Battle Revolution, e non comprendo se quindi sia uno stile quasi retro, e che quindi mi ricorda di giochi vecchi o meno. L'ultima informazione riguardo i remake, invece, è quella sulla data d'uscita, fissata per il prossimo 19 novembre. Ovviamente la data del 31 dicembre, che veniva riportata ad esempio su Amazon, era assolutamente indicativa, e quindi la sua uscita non è stata anticipata, ma soltanto decisa in via definitiva. Non lo so ragazzi, continuo a sentirmi piuttosto spaisato in merito a questi remake, e percepisco tantissimo il fatto che non siano sviluppati dai Game Freak. Al di là del fatto che abbiano adottato uno stile discutibile, continuo a non vedere quel fattore Pokémon, al quale sono sempre stato abituato. Insomma, per loro due staremo a vedere. Arriviamo invece alle leggende Pokémon Arceus. Ci sono ovviamente in questo caso ben più cose da discutere, per quanto riguarda questa copertina, perché in realtà svela molto più di quanto potreste aver notato. In questo caso devo dire che il stile adottato è in puro stile Game Freak, e non posso che esserne felice, e mi ricorda tanto anche la mia serie di spin-off preferita, ovvero quella di Mystery Dungeon. Innanzitutto, la prima cosa che possiamo notare è il fatto che siano presenti ventre Pokémon non ancora visti nei trailer, che ad una prima occhiata potrebbero sembrare non far parte della fauna di Sinnoh. Vediamo infatti un Ralts direttamente dalla terza generazione, Raidon dalla prima e Pikachu sempre dalla prima. Per quanto riguarda Pikachu, do per scontato che sia stato portato da qualcuno proveniente da Kanto, dato che dubito fortemente che potrebbero mai slegare il Pokémon più iconico di tutti dalla regione che lo ha reso tale. Si potrebbe invece ipotizzare qualcosa di diverso per Ralts e Raidon. I due Pokémon hanno due evoluzioni native proprie di Sinnoh, e non mi stupirebbe se scoprissimo che originariamente questa fosse la regione appartenente a questi due Pokémon, e solo successivamente si fossero diffusi rispettivamente a Kanto e a Dohen. Dopotutto abbiamo già svariati esempi nel mondo dei Pokémon, e inoltre nel primo trailer di Leggende Pokémon possiamo vedere uno spill in natura, che sappiamo per certo non essere presente nella fauna di Sinnoh nei giorni nostri, ma a quanto pare presente in quella antica. Per quanto riguarda invece Lucas e Lucinda, possiamo notare un dettaglio nelle loro borse sfuggito nel primo trailer, e non visibile nemmeno nei loro artwork. Il fatidico logo presente nei loro vestiti è presente anche sul loro zaino, immagino a simboleggiare l'importanza di quest'ultimo, dato che lo vediamo ripetuto così tanto spesso. Ma la parte più interessante è sicuramente quella legata al Monte Corona. Come si può vedere da questi artwork, infatti, la punta di quest'ultimo sembrerebbe incandescente, che si tratti quindi di un originario vulcano inattivo nei giochi di Diamante e Perla, o di qualcosa di diverso. Inoltre, sempre sulla cima del monte, possiamo notare una struttura molto simile ad un Tempio Greco, che altri non è se non la struttura presente nei giochi di Diamante e Perla sulla cima del Monte Corona durante i riventi ambientati nel presente. Tale struttura sembrerebbe essere l'unica rimasta intatta, e sembrerebbe essere in contrasto con tutte le altre presenti in quest'asinno, che sembrano collocate in un passato ancora più lontano, dato che in questo artwork è possibile vedere Pikachu seduto su di un'altra colonna distrutta, distrutta quindi in un periodo ancora precedente rispetto a quello in cui andremo a giocare. La domanda è quindi nuovamente la seguente, chi ha distrutto queste strutture? E chi distruggerà anche quella presente sul Monte Corona? Oppure la struttura è semplicemente caduta sotto i colpi delle interperie del tempo, considerando che si tratta della dimora di un Pokémon leggendario, e quello più forte di tutti, escluderei questa seconda ipotesi, e quindi ci deve essere un motivo diverso, magari un qualche tipo di Ragnarok, che saremo noi stessi ad innescare involontariamente, sempre che questo non sia già avvenuto. Speriamo insomma che un trailer non si faccia attendere, magari in vista delle tre, dato che per questo capitolo ho un hype decisamente più alto rispetto a quello che ho per i due remake. Arriviamo quindi all'ultimo punto del video, la data d'uscita di Leggende Pokémon, fissata per il 28 gennaio dell'anno prossimo. Questo conferma quanto ho pensato sin dal primo momento durante i due annunci del Pokémon Direct. Il remake di Diamante e Perla è un progetto abbastanza secondario, pronto ad esaurirsi in poco più di due mesi di vita, lasciando spazio al vero remake, ovvero Leggende Pokémon. Viene da sé quindi che la prima avventura di Sinnoh sarà qualcosa di decisamente più leggero e disimpegnato rispetto a quello che andremo a giocare nel 2021 ed alla fine di conti ritengo sia giustissimo così. Ma ripeto, in merito a questo andrò più nel dettaglio con il prossimo video. Quindi mi raccomando, continuate a seguirmi. La mia reale preoccupazione, a dire la verità, è data dal fatto che potrebbero ancora una volta non essersi presi il tempo necessario per programmare a dovere questo titolo e anche avendo affidato il remake a terzi, sapendo come lavora Game Freak, ho paura che ci ritroveremo tra le mani in un titolo con un potenziale altissimo, ma che si perde per strada per i via di tempi sempre strettissimi. Insomma ragazzi, siamo arrivati alla conclusione e spero che questo piccolo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere che cosa ne pensate e quale dei due giochi attendete con maggior impazienza. Io vi saluto e ci vediamo nei prossimi giorni con un video più esaustivo per la questione remake di Sinnoh. Detto questo, alla prossima!